questa è l'intervista al dottor roberto camagliani presidente dell'ordine dei medici veterinari di ascoli vicino noi chiediamo una riflessione sulla sull'importanza della dell'aggiornamento sono convintissimo che le nostre professioni sanitarie potete dire se non sono corroborate da un robusto e costante continuo aggiornamento penso che posso fare poca strada quindi sono convintissimo di doverlo fare farlo applicare e c'è poco da convincere i pochi scettici che lo fanno soltanto per mancanza di tempo ma è un nascondersi dietro un dito benissimo benissimo e cosa ne pensa della valorizzazione delle esperienze individuali degli operatori sanitari e dei medici veterinari in particolare le esperienze individuali sono anche queste fondamentali nel senso che ognuno di noi si trova nella vita nel corso della sua professione di fronte a qualche evento straordinario oserei dire e forse sono quelle le cose che vanno più frequentemente sui canali di informazione perché diciamo le cose ordinarie sono già ben descritte nella letteratura nei nostri libri di testo nelle nostre lezioni mentre invece le cose straordinarie che possono avere magari un diciamo un andamento diverso dal solito proprio per tipologia per reazione specifiche mi vengono in mente malattie ma casi particolari e queste penso che hanno veramente necessità di essere portate alla conoscenza di tutti in maniera però scientifica precisa puntuale e corretta benissimo dottor camagliani non trova che sarebbe utile riuscire a condividere le esperienze professionali dei suoi colleghi come casi di studio che abbiano un valore proprio formativo io penso che sia proprio veramente utile e necessario perché l'esperienza del singolo possa essere utile delle esperienze dei tanti e credo che ecco tutte le conoscenze che ognuno di noi acquisita nel corso degli anni e corso degli studi se non si concretizzano poi in fatti specifici e quindi condivisi da tutti penso che sono destinati a rimanere o su un piccolo manualetto oppure ecco nella coscienza o nella memoria di qualcuno di noi e basta allora guardi dottore noi veniamo dall'esperienza delle biblioteche scientifiche quindi una domanda che è eh significativa che sarebbe importante e che sarebbe anche importante che a livello politico venisse un po' presa in considerazione è che eh non lei non crede da dalla sua esperienza eh di presidente di un ordine eh dei medici veterinari ma non crede che sarebbe utile proprio cercare di semplificare le modalità di accesso alle letteratura alla letteratura scientifica che è prodotta soprattutto dalle strutture eh proprio di di ricerca dagli istituti di ricerca e eh didattica dello Stato non crede che sarebbe bene fare qualsiasi cosa sforzo per aprire questa questa letteratura il più possibile sono convintissimo e sposo pienamente questa questa teoria ma che non è una teoria questo è un dato di fatto cioè ehm un 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 diciamo un un contesto scientifico noi si dà un istituto di ricerca che non riesce a ehm esteriorizzare in maniera eh specifica puntuale e soprattutto in maniera divulgativa in maniera ehm proprio totale globale o sarei dire in questo momento un 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 suo studio una sua ricerca un qualsiasi cosa qualsiasi cosa che possa essere poi condivisa e possa essere eh utilizzata come un gradino per qualcun altro penso che sia una cosa fondamentale e non lo penso solo io sono certissimo che sia così Dottore ci vuole dire ehm quali sono eh i i progetti le intenzioni che lei ha eh per il futuro eh in quali cose si sta impegnando per quanto riguarda soprattutto se ce lo vuol dire eh la l'informazione eh dei suoi colleghi e la promozione delle attività professionali eh di alto livello su questo penso che possiamo dire diverse cose io sono presidente eh di un ordine interprovinciale di medici veterinari di Ascovice nel fermo e quando mi è stato illustrato questo progetto ehm sono stato veramente eh molto molto entusiasta perché la diciamo tutte le le conoscenze scientifiche e l'uso della tecnologia ormai uso comune che possiamo di cui siamo eh siamo a disposizione abbiamo a disposizione eh eh è una cosa straordinaria quindi i termini open access open data che si useranno oggi eh saranno veramente all'ordine del giorno quindi io mi sono trovato subito disponibile a dare la massima visibilità sia sul nostro territorio di competenza che con sistemi di divulgazione tutto per consentire maggiore fruibilità sull'argomento eh io per esempio per quanto riguarda ecco le le problematiche diciamo più eh che mi sono più vicine io sono sono avuto una fortuna eh di aver sposato una pediatra un pediatra di libera scelta un PLS di un pediatra di famiglia e quindi mi occupo di alimenti da più di 35 anni e quindi ho potuto facilmente nel corso degli anni approcciarmi alle zoonosi ma in pratica sul campo quindi con casi reali non solo descritti in letteratura quindi il concetto di One Health è pienamente identizzato in questa collaborazione interscambio di conoscenze e esperienze eh inutile ricordare l'importanza avuta nel mondo animale e quindi veterinario negli ultimi due anni con il covid ma questo mi fa pensare subito l'attenzione che il mondo scientifico eh sta prestando al diffondersi dell'influenza aviaria eh H5N1 eh che noi conosciamo bene che ha già fatto il salto di specie verso mammifere delle specie avicole allevate eh in maniera intensiva è passato già alle specie avicole selvariche quindi ai visoni ai leoni marini e per ultimo sto pensando alla bandina in Cambogia. Lo spillover eh il salto di specie nel sull'uomo è probabile, è imminente quindi eh vigilare a tutti i livelli eh ognuno per la propria competenza e capacità con interscambi e collaborazioni tra centri di ricerca, università, istituti zonofilattici, scienziati di tutto il mondo eh utilizzando sistemi di comunicazione che oggi abbiamo eh a nostra disposizione è fondamentale. Tutti i centri di eccellenza distribuiti sulla faccia della terra possono dare risposte sempre più rapide e la rapidità in sanità corrisponde a vite salvate. Eh quindi le risposte devono essere competenti, verificabili, condivisibili, senza interessi personali. Ma tutto per una salute di chi lo fare direi. Spero che questa pandemia eh i noti problemi climatici che oggi sconvolgono il pianeta facciano riflettere le nazioni politici ma ricordiamoci che gli attori primordiali e principali di questi drammi siamo noi. Ciascuno di noi può evitare di lasciare un rubinetto aperto o gettare un pezzo di plastica per terra. Questo va in mare. Ho timore quando in Cina costruiscono dei mega condomini. È stato spesso oggetto di discussione nei nostri consigli direttivi. Fare un allenamento superintensivo e macellazione di milioni di suini, concentrazione di animali che non promettono nulla di buono dal punto di vista epidemiologico. Sono sicuro che le conoscenze e le coscienze che sono proprio dei medici, dei medici veterinari, di tutte le professioni sanitarie sono oramai sufficienti e saranno tutti insieme responsabili di un cambiamento positivo dell'attività finalizzata alla convivenza di popolazione umane che nei prossimi anni arriveranno a numeri estremamente elevati e del mondo animale tutto. Che purtroppo conosciamo solo in parte, pensando alle profondità oceali o alle impenetrabili foreste, abitati ancora sconosciuti e ricchissimi di flore e di fauna con cui verremo inevitabilmente in contatto in maniera non sempre prudente, come ci ha già insegnato qualche esperienza, e rispettosa con tutti i pericoli che questo potrà comportare. Concludendo, secondo me, i sistemi elettronici di cui disponiamo oggi permettono alla comunità scientifica e medica in particolare di interagire e trovare soluzioni e risposte alle tante domande, con liberi accessi alla letteratura scientifica e alla casistica dei più svariati argomenti, quello che si diceva prima, messi a disposizione di biblioteche, società scientifiche e singoli ricercatori in un'ottica di sviluppo professionale continuo, che è proprio quello che si prefigge questo progetto. Io vi lascio un caro saluto e un buonissimo buon lavoro a tutti. Salutiamo il dottor Roberto Camagliani e lo ringraziamo per questa bella intervista che ha toccato diversi aspetti veramente molto significativi. Quello della One Health, il riferimento alle condizioni di sistema e al progetto di sviluppo professionale continuo, sono sicuramente molto significativi. Grazie dottor Camagliani. Complimenti a voi e ringrazio voi.